La cancellazione di senologia sta causando una levata di scudi che sta unendo il Bassanese oltre le bandiere di partito e i colori della politica. È il territorio a voler difendere l'unità di senologia del San Bassiano e alle tante voci che si sono già levate in questo senso si aggiunge ora quella di chi ha seguito da vicino la produzione delle schede ospedaliere che prevedevano un assetto molto diverso da quello varato a fine anno dal DG Carlo Bramezza. Sono molto preoccupato perché non si tratta soltanto di modificare sulle carte, sugli organigrammi, qualche cosa ma si tratta anche poi di dare di servizio o meno alle persone, in modo particolare in questo caso alle donne. Le schede ospedaliere parlano chiaro. Quando furono fatte le schede ospedaliere e si ragionò col consiglio regionale su come dividere alcune specialità tra Bassano e Sant'Orso era stato deciso opportunamente di concentrare urologia a Bassano e senologia a Sant'Orso e di fare un'unica equip, però era stato messo nero su bianco in maniera molto chiara che le operazioni sarebbero state svolte in entrambi i nosocomi e che a spostarsi non sarebbero state le pazienti bensì l'equip medica. Ora tutto cambia con un semplice segno di penna del DG Bramezza e molto potrebbe cambiare anche per le associazioni che seguono da vicino le donne coinvolte nei percorsi di cura. Significa anche spostare un tipo di servizio che permetteva tra l'altro anche a delle associazioni assolutamente benemerite che svolgono un importante servizio nel territorio di non poter più seguire adeguatamente le donne in fase post-operatoria perché sono altrove. Il territorio ha già fatto sentire la propria voce. Ora è il momento che la politica faccia altrettanto da Venezia a Bassano. Tutte queste decisioni stanno al Consiglio regionale, non a una singola azienda sanitaria. Quindi mi attendo che chi siede sui banchi del Consiglio regionale prenda provvedimenti subito e cerchi di capire il perché di questi spostamenti. Ma mi attendo che anche l'amministrazione di Bassano, che presiede il Comitato dei Sindaci del distretto, possa dire una parola e possa far sentire la voce delle persone che chiedono a un ospedale che funzioni, che funzioni al meglio.